Piazzetta Imperiali nasce da un ristoratore di grande esperienza nel settore. Entrando nel locale ci si sente subito a proprio agio. Degustazione di ottimi caffè accompagnati a deliziosi cornetti, aperitivi e franzi. La sera tanti piatti, hamburger americani, baguette francesi, taglieri di ogni tipo, insalati e bruschettoni, ma anche pizza particolari. Il dopo cena è al ritmo della migliore musica. Piazzetta Imperiali, location ideale per festeggiare eventi unici nel loro genere. Alla Tiano, India Roma 34, angolo Piazzetta Imperiali, info 0831 72 77 57, Piazzetta Imperiali, Sorsi di Allegria. Siamo con Antonio Liuzzi, già priore della confraternita della Dolorata. Un evento, quello che si sta celebrando qui alla Biblioteca Clavio. I giovani e la settimana santa, il ricordo di Francesco Carlucci. Una rivisitazione della settimana santa nel corso degli anni, dei decenni, attraverso tutta una mostra di documentazione, fotografie, cartoline, articoli di giornale, disegni e quant'altro. Lei che è uno storico di questi riti. Quindi cerchiamo di cogliere, proprio di parlare del sentimento religioso che pervade i tarantini in questi giorni. Innanzitutto, ecco, voglio ricollegarmi alla figura che tu hai evocato, in nome della quale si celebrano questi momenti, Francesco. Io l'ho sempre presente, lo rivedo ancora nella segreteria della nostra confraternita, quando con grande passione veniva a chiedere la collaborazione nostra, proprio per realizzare ciò che questa sera noi vediamo qui, cose di cui lui senz'altro sarebbe stato felicissimo. La spiritualità della nostra settimana santa ha il suo fulcro, il suo nucleo, nei momenti rituali specifici che noi ben conosciamo a Tarantos, del giovedì, venerdì e sabato santo. Ma c'è tutta una serie di manifestazioni che sono cresciute nel tempo e alcune altamente qualificate, che in un certo senso concorrono tutte insieme proprio a preparare il cuore dei tarantini e non a vivere, a saper interpretare e intendere il significato autentico, vero, profondo di questa ritualità. Perché altrimenti si correrebbe il rischio di assistere a un qualcosa di bello, quasi fine a se stesso, finito il tutto, ognuno ritorna, ma deve ritornare arricchito. Deve ritornare arricchito proprio perché il messaggio è in quel rito che vediamo e bisogna saperlo cogliere. E a questo si può giungere se c'è un adeguato percorso di preparazione all'interno del quale il concerto, la mostra, il momento culturale, l'incontro con i giovani nelle scuole segnano tante tappe, tanti tasselli di un mosaico che pian piano si va formando e alla fine può esprimersi nella completezza di quei tre giorni bellissimi che per me sono inimitabili e ai quali siamo tutti legati. Basti pensare ai tanti concittadini che vivono lontano e che pur stando lontano in quei giorni hanno il cuore qui. Grazie. Grazie. Grazie.